Cinque minuti, tu ti siedi, ti rilassi un pochino e ti aiutiamo io e Lauren, ok? Gestisci l'anima, rilassi! Come si dice di questo gestisci l'anima? No stress! No stress! No stress! No stress! No stress! Tutti al pub! Papà prendi i grembi! I grembi quando? Là dentro! Ma dentro? Nel cassetto! Nel cassetto! No stress!